Il tempo per ritrovare nuova forza per Bitcoin sta scadendo ed è questa l'area che dobbiamo monitorare, l'area in termini temporali, non di prezzo, per quanto riguarda il ritrovamento, diciamo così, di una nuova forza, di una nuova energia che però poi andrà delineata, bisognerà comprendere effettivamente se avrà le carte in regola per riprendere il ciclo rialzista e la struttura rialzista che abbiamo visto dalla fine del 2023 e anche per tutta la prima parte del 2024. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e per quanto riguarda il nuovo sistema automatico di trading casuale, cioè la moneta, il lancio della moneta, settimana scorsa ha preso uno scoppolone perché aveva detto che saliva, quindi non è andata, allora la rilanciamo anche se sappiamo già sostanzialmente come dovrebbe essere l'esito di questo sistema, cioè dovrebbe vincere alla fine 50% e 50%, comunque dice che scendiamo anche questa settimana, forse forse potrebbe essere anche vera una cosa del genere perché abbiamo avuto una fase di recupero nei giorni scorsi, nella giornata di lunedì e martedì e da qui in poi potrebbe iniziare in effetti una fase nuovamente di declino per il tentativo di testing dei minimi appena fatti. Ne parliamo oggi, vediamo questo grafico e vedremo anche il grafico della Total Market Cap, delle criptovalute per capire un po' dove stiamo andando in termini proprio del mercato cripto in generale, escluse le due più grandi Ethereum e Bitcoin, escluso anche le stablecoin perché si collegano questi due grafici per quello che voglio farvi capire in questo video. È un video importantissimo, è un video che spiega quello che dobbiamo attenderci anche da metà luglio in poi ed è importantissima questa fase. Ma se c'è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere invece certamente nel mese di luglio e senza ombra di dubbio la questione legata alla tassazione del settore delle criptovalute. Una domanda che mi fate sempre ragazzi e oggi vi parlo del sponsor del video di oggi che è appunto MoneyViz, cioè un servizio che vi permette in pratica di andare a dichiarare correttamente le criptovalute nel contesto fiscale italiano appunto utilizzando tutto quello che sono i loro servizi. Le cripto in generale sono diventate una parte abbastanza importante dei portafogli di molti investitori, tuttavia la loro gestione fiscale soprattutto in paesi come l'Italia può essere anche un po' ostica, complicata. Errori nelle dichiarazioni possono portare poi alle famose multesalate ecco perché comunque è essenziale conoscere le regole adeguate, utilizzare gli strumenti adeguati anche in questo ambito. MoneyViz ci viene proprio incontro in questo tipo di logica perché è una piattaforma che offre comunque un servizio di dichiarazione precompilata delle criptovalute, questo è un servizio tra l'altro utilizzato da oltre 4.000 clienti e supporta 70 integrazioni perché è tutto collegato a quelle che sono le integrazioni, le API automatiche dei propri exchange e dei propri wallet. Grazie infatti alla sincronizzazione automatica in pratica degli account è possibile evitare i comuni errori da fai da te, insomma cose un po' strane. La piattaforma tra le altre cose effettua o calcoli tutti a norma di legge quindi in conformità con le regole e le leggi vigenti garantendo poi ovviamente precisione e supporta anche un macello di criptovalute. Questi sono tutti gli exchange che abbiamo in pratica qui e proprio tantissime cripto che vengono supportate da MoneyViz, oltre 15.000 tra criptovalute, altcoin e vari token supportati. Come funziona questo tipo di servizio? Si collega l'exchange, quindi colleghi il tuo exchange e il tuo account in sola lattura per la modalità di sincronizzazione dei dati. Quindi in pratica si fa un API, si collega l'exchange con l'API in modalità solo lattura, così non è possibile utilizzare quell'API per fare operazioni e roba del genere. Poi il sistema automaticamente calcola quello che sono le imposte e l'impatto fiscale delle varie transazioni e poi si accede a un facsimile del modello precompilato, il modello della dichiarazione precompilato che può essere utilizzato per la dichiarazione. Ci sono poi diversi piani a disposizione che mette a disposizione MoneyViz tra cui il self-service, ideale per chi effettua poche transazioni, poi quello servito che è per chi vuole ridurre al minimo eventuali rischi di errori ma già fa molte transazioni, infatti qui è fino a mille transazioni e poi abbiamo quello VIP che chiaramente è più completo e per investitori consapevoli, per investitori che hanno tantissimo capitale magari e fanno tante transazioni e quindi lì c'è bisogno di un tipo di assistenza più personalizzata, più adeguata insomma, una cosa del genere. Quindi utilizzare un servizio come i MoneyViz non solo vi garantisce la completa gestione fiscale delle criptovalute ma vi protegge anche dalle eventuali sanzioni, dagli eventuali errori e quant'altro. Vi lascio tra le altre cose il link, anzi un coupon in descrizione con uno sconto del 20% su questo tipo di servizi che sono già di loro già scontati, poi perché è importante tra le altre cose il mese di luglio? Perché già la prima scadenza per quanto riguarda la dichiarazione cripto è avvenuta fino all'1 luglio, quindi il 30 giugno, ma adesso fino al 31 di luglio è possibile comunque dichiarare le proprie cripto con una piccola aggiunta, cioè una piccola sanzione. Vi faccio i calcoli per farvi comprendere le due dichiarazioni che vanno fatte sulle cripto sono quelle del bollo delle criptovalute e poi quelle sulle plus valenze del 2650. Il bollo è lo 0.02 del totale posseduto, il 2650 invece è quella relativa alle plus valenze. Allora come si calcola questo 0.04% di maggiorazione dovuta alla questione della dichiarazione tardiva, si definisce così. Allora intanto se io ho per esempio 200.000 euro di criptovalute possedute a quanto ammonta il bollo sulle cripto? Il bollo sulle cripto ammonta 400 euro, a queste 400 euro io devo aggiungere lo 0.04%, attenzione che lo 0.04 non si calcola sul totale delle cripto possedute, bensì sulla tassa, quindi è veramente una cifra irrisoria, infatti vi verrà insomma 401,60 con una maggiorazione di 1 euro e 60 centesimi. Per quanto riguarda invece la plus valenza quella si applica al 26%, anche qui c'è una maggiorazione dello 0.04% ma anche qui si calcola sulla plus valenza e non sulla tasse, scusate, non sulla plus valenza realizzata. Quindi qui abbiamo una ipotesi di 20.000 euro di plus valenza realizzata, io andrò a pagare 5.200 euro di tasse perché è il 26% di 20.000, alle quali aggiungerò lo 0.04% con un totale di maggiorazione di 21 euro, quindi veramente molto comodo. Vi lascio il link in descrizione per monovizia, andatevi a leggere ogni cosa per essere più consapevoli e il coupon per lo sconto. Passiamo alla questione legata invece alla cripto. Allora la zona dell'area di bitcoin che dobbiamo andare a controllare per quanto riguarda questa fase temporale è quella che va dalla giornata di oggi, cioè dagli ultimi giorni in pratica fino alla 20 di luglio. In pratica sono una decina di giorni, è vero, qualcuno di voi dirà può allungare ancora. Assolutamente vero, però io dico in questa fase andiamo un po' con i piedi di piombo, quindi andiamo a ragionare a dire la prima zona temporale che dobbiamo andare a controllare sono proprio questi 10 giorni. Perché vi dico questo? Perché siamo in una fase molto importante del mercato delle cripto e di bitcoin e la vedremo anche in questo grafico, quindi mi raccomando non, come si dice, cambiate canale, perché questo è un grafico che andrà ad introdurci un secondo scenario, un secondo scenario che dovremo monitorare dopo che questa fase sarà terminata. La fase attuale in fase di definizione è vicino alla sua fase finale, quindi sta per terminare questa zona ribassista, ma dopo, dopo, quello che andremo a realizzare dopo dipenderà anche da questo grafico, soprattutto sulla questione delle cripto. Io un po' un'idea me la sto iniziando a fare, però non mi piace anticipare molto il mercato, sapete che non è possibile ovviamente prevedere i mercati, è possibile invece creare diversi scenari e soprattutto anticipare gli scenari, quello invece è assolutamente possibile guadagnando un vantaggio e un edge sul mercato che può essere utilizzato soprattutto per ridurre i rischi, più che per aumentare i rendimenti, che quello vale tanto e non quanto, ma nel settore delle cripto invece è possibile addirittura anche aumentare i rendimenti, visto l'enorme volatilità che hanno rispetto per esempio ai mercati classici, dove lì è un po' più complesso fare questo tipo di logiche. Allora, qui tutta questa fase discendente è la chiusura di un ciclo trimestrale fatto di 3 mesi circa che dura più o meno 70-80 giorni. Ora, su questo minimo siamo a 65 giorni, è sufficiente per aver chiuso i giochi del trimestrale, non è adeguato in termini temporali, soprattutto per l'andamento in barra di congestione prima rialzista e poi ribassista di questa struttura di ciclo che teoricamente chiama una lunghezza maggiore di solito è così. Quindi, intanto non è avvenuto nulla al momento che ci lascia immaginare che qui è iniziato assolutamente un nuovo trimestrale, qui potrebbe essere iniziato un nuovo ciclo mensile corto, oppure un bisettimanale corto, lungo, che in pratica andrebbe a completare il tutto entro il 20 di luglio barra 24, quindi un po' di giorni più in là, una ventina di giorni da questa zona. Insomma, siamo a 65 giorni, se Bitcoin vuole chiudere i giochi, se non li ha chiusi già qui, deve farlo a breve. Quindi questa candela, che è quella che abbiamo visto oggi, è una candela importante, perché anche l'analisi tecnica, vedete, ci porta alle stesse logiche che abbiamo visto precedentemente. Guardate il movimento di questa zona, come è veramente simile a quello attuato qui. Facciamo il nostro classico copia e incolla del pattern a barre e possiamo andare in pratica a controllare come effettivamente ci sia un po' di similarità in questa struttura. guardate qui com'è, con la fase up, che in questo caso è venuta un giorno prima, o comunque siamo molto vicini a poter avere la stessa tipo di struttura, molto semplice, up per poi chiudere. Quindi qui è stato fatto un'app che potrebbe chiudere nuovamente i giochi proprio in questo modo. Io mi aspetto una specie di doppio minimo, vi dico francamente. Non so se bitcoin vorrà scendere al di sotto, secondo me potrebbe non farlo. Sono sempre molto positivo, quindi bisognerà un po' cercare di comprendere i miei bias di positività sul settore delle cripte, quindi un po', ragazzi, quelli sono in mia opinione, non è un dato di fatto. Però la logica è, secondo me, che questa zona è una zona che temporalmente inizia ad essere ghiotta e potrebbe chiudere i giochi. Poi, da qui in poi, inizia una fase successiva, quella fase di cui adesso vi parlo appunto in questo grafico qui. Cioè inizierà il nuovo ciclo trimestrale. Quindi a noi, quello che interessa, e vi consiglio ovviamente se siete dei trader, di focalizzare l'attenzione su quella fase lì, su questa fase qui, cioè partecipare alla prima gamba up dell'inizio di questo ciclo trimestrale, che dovrebbe essere attuata insomma in questo modo. Primo perché potrebbe essere un trend anche interessante, 20-30 punti percentuali. Secondo perché non ha, cioè bitcoin avrebbe anche tutte le caratteristiche addirittura per poter ritentare nuovi massimi storici e non ha nessun tipo di vincolo. In più potrebbe aver chiuso anche un ciclo di natura annuale e quindi ancora di più avere la forza di riprendere un nuovo trend. C'è un ma però, ed è il ma che vi ho promesso in questo video. Cioè questo ciclo che dovrebbe iniziare a brevissimo, questione di giorni, secondo me una decina di giorni circa, 10-20 giorni più o meno, perché siamo a 65, intorno agli 80, di solito chiude ragazzi. Quindi qui 65 l'ha fatto qui, adesso siamo a 60-70, quindi manca una decina di giorni più o meno, ecco una cosa del genere, 10-15. E da lì in poi però il nuovo ciclo trimestrale potrebbe anche essere appartenente all'annuale ancora in corso, cioè quello che in pratica è iniziato su questo livello di minimo, il 12-11 di settembre, questa zona qui. In pratica è possibile che questa fase sia più lunga facendo una roba del genere e che porterà a settembre del 2024. Allora questa cosa, lo so, molti di voi non amano sentire una roba del genere, non cambia in nessun modo le eventuali prospettive successive. Potrebbe essere un nuovo ciclo che magari va a aumentare un po' la durata temporale, si accosta anche con le questioni estive che di solito diciamo non è un, il mese diciamo, i mesi estivi non sono a grande volatilità, c'è da dire che il mese dove c'è la ripresa anche degli istituzionali è da agosto in poi, luglio è un mese in cui di solito gli istituzionali sono in vacanza, non vanno agosto in vacanza ragazzi ci vanno a luglio e quindi ad agosto potrebbe iniziare a muoversi qualcosina. C'è da dire però che in questo caso quel ciclo è da monitorare, quindi intanto va trattato long, senza ombra di dubbio questo ragazzi, quindi la prima fase va trattata long perché potrebbe semplicemente il mercato chiudere i giochi e ritornare a fare nuovi massimi come ha fatto qui nei precedenti cicli, quindi non c'è niente di anomalo, qui per esempio non l'ha fatto un ciclo di raccordo della nuova fase, è partito a bomba e stop. Qui ha già fatto due strutture ribassiste, una è la seconda, però il vero ciclo trimestrale ribassista non è il primo che era partito da qui, è chiuso qui che è quindi rialzista, ma è proprio questo qui attuale che è iniziato qui ed ha già breccato il suo minimo, quindi è già ribassista. Quando chiuderà potrà tranquillamente ricominciare a fare un nuovo annuale. Perciò, perché io vi sto parlando della questione di settembre? Perché se andiamo a guardare questo grafico e anche moltissime delle criptovalute che non sono Bitcoin, per esempio Ethereum, è in una situazione molto strana, molto strana perché ha queste strutture un po' particolari in cui a livello ciclico non si vede bene la sua forma. Siamo sicuro a metà di un ciclo annuale su Ethereum perché nella metà dei cicli annuali inizia a fare questi zigzag, queste barre di congestione, quindi ci vorrà più in là. Però l'annuale di ETH ragazzi chiude a dicembre 2024 e questo non è un bene perché potrebbe chiamare una zona di massimo sviluppo entro settembre-ottobre, questa parte qui, da lì in poi teoricamente dovrebbe poi andare a chiudere i giochi, quindi insomma se non sale a brevissimo qui la questione inizia a mettersi un po' male. Invece il total market cap che ha escluso comunque Bitcoin e Ethereum, quindi riguarda le altre altcoin generalizzandole ovviamente perché sono tantissime, in pratica in questa zona noi abbiamo avuto un minimo con una struttura ribassista che ha toccato la mia media mobile importantissima sul settimanale, quella a 52 settimane che si è breccata, configura una debolezza grave, molto grave e difficile anche per il settore delle cripto, però diciamo che da qui noi siamo a un minimo di 392 giorni, ancora c'è spazio per cosa? Per un nuovo trimestrale che dovrebbe essere o potrebbe essere iniziato proprio nella settimana attuale, quindi all'inizio di questa settimana in pratica e potrebbe essere sviluppato sì, cioè si potrebbe sviluppare così, cioè andando a fare il cosiddetto raccordone qui con una parte app che poi non ce la fa e si va a ricostruire con un doppio minimo in questo modo o addirittura in questo tipo di ciclo è possibile fare ancora un nuovo minimo, perciò forza magari in questa prima fase del mercato fino a quando? Fino alla fine di luglio, i primi di agosto per poi andare di nuovo a scendere? Allora il dubbio un po' c'è ragazzi, quindi cosa fare in questo contesto? Vi ho spiegato perché il prossimo ciclo trimestrale di bitcoin è così importante, quindi abbiamo 10 giorni di fuoco e sono questi attuali, dobbiamo posizionarci, long ve lo consiglio ovviamente siete trader, se non siete trader perché non siete trader in questi mercati? È la cosa più importante da conoscere per lavorare bene in questi settori, non c'è bisogno di fare 13.000 operazioni al secondo, non è quello il trading ragazzi, il trading è comprendere scenari e saperli utilizzare ed è tutto qua dentro ragazzi, tutto mindset più di tecnica, la tecnica serve tanto e non quanto, ma il mindset studiatolo ragazzi, ci sono anche tante libri interessanti anche da questo punto di vista, ma poi la pratica diciamo vi dà il busto, no? Importante. Allora da questo punto di vista, su questo nuovo ciclo di bitcoin, se sarà un nuovo trimestrale, dobbiamo andare lungo, poi però quel trimestrale va monitorato proprio per quello che vi ho detto e quindi non possiamo aspettarci il bump definitivo, ecco, dobbiamo attendere un po', stare sempre su quel eventuale grafico, eventuale trend, perché questo grafico delle altcoin potrebbe darci un altro segnale. Attenzione che c'è un'anomalia e qui ve la dico in conclusione solo per quelli che sono arrivati alla fine di questo video, cioè in alcune situazioni, tante volte lo ha fatto, anche anni scorsi bitcoin parte prima delle altcoin, quindi un eventuale ciclo trimestrale di bitcoin già rialzista che indica un nuovo annuale sarebbe positivo perché non inficia questo grafico che vi ho mostrato, che potrebbe comunque andare a fare un pump e un dump così prima di ripartire. Anzi, se bitcoin facesse un trimestrale invece più forte, sarebbe anche un'ulteriore conferma che questo ciclo sulle altcoin sarebbe quello importante perché dopo questa fase sulle altcoin, ragazzi, lì il tempo finale della cosiddetta altseason start altseason not start sarà definito, sarà concluso, quindi poi dopo bisognerà tirare le somme perché non c'è più tempo per le altcoin dopo quella fase. Già da qui in poi, in questi mesi saranno delicatissime, perciò è importante assistere a queste fasi. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e vi ripeto il link di Monevizzi in descrizione col cupono e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!